scure tattica leggera da 260 grammi è una piccola scure che ha una protezione per la lama in pvc priva di fodero la parte della lama metallica è punzonata e ben rivettata ben saldata per cui non salenterà mai la manicatura è un tecnopolimero denso ergonomico ha una forma molto ergonomica si impugna bene e il suo pregio è la leggerezza in quanto come potete notare ha una lama non troppo spessa intorno al centimetro e mezzo credo si affila bene molto maneggevole leggera pratica da portare dentro uno zaino o con sé per eventuali utilizzi esterni